Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Omori! Nello scorso video ho trovato il mixtape speciale e sconfitto anche Capitan Space Boy E... oh... Attenzione! Ciao, l'ombra di Basil Quindi le impronte ci portavano qui? Sempre seguire le impronte, dovrò ricordarmelo Oh, il tentacolo che esce Credo sia un riferimento a Day of the Tentacle, ma potrei sbagliarmi tranquillamente Ok, c'era una torta di compleanno Angurie, il momento migliore dell'estate Specialmente quando le metti a raffreddare nei fiumiciattolo Il momento migliore davvero Mmm, quella torta di compleanno vorrei andarla a vedere Ah, ma qui c'è Basil Che scappa Guarda, arrivo subito, eh Dopo che abbiamo fatto tanto per incontrarlo Cosa potrei mai desiderare? Qui ho già tutto quello che voglio Ma stiamo... quindi è Basil probabilmente? Stiamo rivivendo i suoi ricordi? Una panchina con degli ombrelli Oh, stai andando? Non preoccuparti, vai pure che ti raggiungiamo subito No, no, aspetta, aspetta Ora vado sotto, voglio... voglio vedere tutto Probabilmente avremmo fatto tutto per forza Però, sai com'è La voglio di esplorare è tanta I tuoi biscotti sono buonissimi Ti senti proprio che li fai con molto amore Li mangerai per l'eternità Beh, i biscotti fatti con amore sono oggettivamente più buoni Vediamo un po' Qua su mi dice di andare e di seguirlo Però, dato che sono molto curioso di esplorare Ah, la strada di prima, ok Andiamo qui allora Ok, lì sotto l'ho visto Però qua non c'è più nient'altro Seguiamo Basil allora e basta Oppure Dai, mi limito a segui... No, non posso limitarmi a seguirlo Vedi che ci ho lasciato roba Vediamo un po' Siamo ancora giovani Insomma, dovremmo sognare in grande Beh, quando si è giovani e adolescenti si può farlo Vediamo un po' Ecco, oh Il fienile Ho paura di entrare perché la luce è rossa Però... Ah, ma sono da solo Ok Eh, in effetti sì Non ci avevo fatto caso che stavo girando da solo Wow Ok Ok Una specie di scalinata o ponte Molto... Cioè tutto questo per farmi trovare una lettera Grande U All right Dieci tasti rimasti Ma il buco si è richiuso Uno spartito sull'Eggio Tutte le notte sono state scarabocchiate Una famiglia felice E la lampadina nera E la famiglia felice Non... Wow Oh Oh E se mi prende? Ah Allora Oh cavoli E c'è già a coltella Allora Con calma Devo un attimino riflettere Dunque Mi ha preso perché mi sono fatto prendere Ma mi avrebbe preso anche se Se avessi continuato a scendere Se fossi scappato Nel fienile Va bene Allora Eh Chi ha a coltello? A coltello me Aspetta Ora forse torniamo sanni Quindi Torniamo da sanni Non siamo più amori Quel giorno Ho visto tutto Mentre eri in piedi Di fronte a me L'hai visto anche tu? C'era qualcosa Dietro di te Tre giorni Rimasti Cos Ed eccoci Che siamo sanni Ed anche la giornata Sembra soleggiata Buongiorno Ok C'è un messaggio Nella segreteria Ciao sanni Sono mamma Come va? Stai mangiando bene? La bistecca dell'altra volta Mi ha fatto vomitare Comunque Grazie per l'interesse Speravo di riuscire a tornare Entro oggi Ma è l'ultimo giorno Di una grande svendita di mobili E in più Devo ancora finire Di firmare qualche scartoffia A questo punto Credo ritornare Tra tre giorni Riesci a prenderti Cura di te stesso Per un altro povero? Dopotutto Sei grande ormai Ricorda di finire Le tue faccende Ho lasciato una lista Sul tavolo Accanto alla porta Ok Questo è quanto La mamma ti vuole bene? Ciao ciao tesoro Grazie mamma Lo aiuto Allora Chi è che bussa la porta A quest'ora del mattino? Ehi C'è nessuno? Sanni Sei in casa? Ti ricordi di me? Sono chiede Il tuo vecchio amico Ah Sono qui per Ehm Ho notato il cartello Vendesi davanti Casa vostra Ehm Che imbarazzo Ho sentito mia madre Che dire che Che trasferirete presto Quindi volevo chiederti Ti voglio uscire Un'ultima volta insieme? Mi andrebbe bene Anche vederci e basta Potremmo fare In memoria dei bei vecchi tempi Che dici? Kel è il nostro amico In memoria dei bei vecchi tempi Uscire Kel Io apro la porta Apro Scusami Perchè no? Wow Wow Sei uscito davvero Ma Kel È cresciuto Sarò onesto con te Non mi aspettavo uscissi per davvero Quindi Non ho idea di cosa potremmo fare oggi È da settimane che chiamo a casa vostra Ma non ricevendomi risposta Mi ero messo l'anima in pace Aspetta ci sono Possiamo passare da Hobies È l'unica fumetteria presente Nella piazza di Farahway Ricordi la strada vero? Quando eravamo piccoli Ci andavamo spesso Che stiamo aspettando? Andiamo Io se volessi tornare dentro casa Aspetta Sandy Non puoi tornare a casa di già Ok È un nuovo giorno Cavoli Mo mi interesserebbe andare avanti Con l'altro salvataggio Allora per vedere le scelte diverse Che posso fare? Non dovresti camminare per la strada Oddio le scarpe lanciate lassù Un bel riferimento Non ricordo a quale Di preciso a cosa Però lo so quale è il riferimento Il canestro di basket di Kel Ma scusami Lo mette così Fermo Sandy So che devo Ma Va bene Va bene Che poi Ha provato a chiamare casa nostra Abiti a due metri Kel Anche tu Ma io voglio parlare col cano Non posso parlare col cano Questa di chi è a casa? Mi domando ora Se non avesse risposto a Kel Quello che poteva succedere Magari non succedeva nulla Parco di Far Away Il futuro appartiene ai sognatori Oddio ma Ma sempre sti mostriciattoli ci sono a giocare Che significa? Però non Cosa? È scomparso? Perché ci ho parlato? Anche questo Oh mio dio Vuoi vedere che Omori In realtà è solo Un personaggio immaginario Di Sanni E lui si immagina Tutto Voi la giornata Guayun Perché facete che la faccia? Tengo qualcosa Al mio zedente No È tutto il resto Amico mio Spazzatura trovata Chi è questo? Buono tu Ehi Atleta Ehi come va? Che stai facendo qui Kel? Abiti da queste parti? Oh Wario Mi aspettavo di vederti qui Jay Sanni Lui è Jay È capitano della squadra di football Della mia scuola Non sapevo Gioca sia anche a basket Eh Sono qui solo per passatempo È più un hobby che altro Stai provando ad entrare Nella squadra di basket Quest'anno Vero Kel? Magari puoi insegnarmi Qualche trucchetto Ah sì Perché Kel lancia cose Quindi Effettivamente Potrebbe essere un buon Cestista E questi cosa sono? Seguaci del sacro bidone Come tutti hanno inquinato Tutti quanti devono ammettere Di essere della spazzatura Riduci il uso e ricicla E anche tu dici le stesse cose Va bene Siete Dei massoni Perfetto Mi fa piacere Odio la parola Tetherball Hobbies Eccolo qui Cosa? Capitano No Non dirmi che era solo un fumetto No No è solo un fumetto Ma no Dai È passato un sacco di tempo Dall'ultima volta Che sei venuto qui Ma il posto Non è che mi adoppia così tanto Sempre la stessa roba I giochi di Capita Spaceboy I film di Sweetheart Qualche Tamasasso I film di Sweetheart E i Tamasasso Ah Hector No Hector Sai che adesso i Tamasasso sono vintage Sì praticamente Ah Hanno unito Tamagotchi E Petrock Ok Visto che siamo qui Dovrei comprare un regalo per Hiro È al college adesso Ma dovrebbe tornare domani Oh Sta stirando per diventare medico Quindi dovrei comprargli Delle medicine Ma no Non si può fare Videogioco super ultra Romancia Bulbo Talpe Peggy 18 Troppo velento per Hiro Non credo apprezzerebbe una cosa simile Ma no Ma tutto era un videogioco Cioè era tutto quanto una finta Sanni stava sognando Qui andavamo mori allora Attenzione È uscito da poco un film sul mio manga preferito Peccato faccia schifo Perché chiamarlo Death Note Se non ci azzecca nulla con il manga Beh in effetti Sì quel film È inguardabile Se non esistesse il vero Death Note Sarebbe anche passabile Ma non è così Vuoi sfidare questo mostro? No Ma che cosa? Ma come? Attenzione Ho trovato roba? Sì questo è perfetto È un libro di cucina Si chiama Cucinare cibo perfetto Con papà chip E presto detto Che nome lezzo Ma perché Troppi riferimenti A roba che Potrebbe essere invitata Comunque Ricordo che io Non avevano come tempo fa Ma il nostro cane Hector Hector era il cane Perché la Petrock Era il nome del cane Oh mio dio Troppe informazioni Troppe informazioni In poco tempo Sto ricollegando tutto Spero sia contento Quanto lo riceverà Prima la cosa più importante Quanto costa? Venti? Ma una rapina Ho dimenticato Il portafoglio a casa Sanni Puoi prestarmi i soldi Te gli riederò Promesso Ma facciamogli Il regalo insieme E così spendiamo Una volta sola Hai preso il regalo Per Hero Possiamo anche scappare Volendo Scommetto che Hero Rimarrà bocca aperta Possiamo giocare ora? Vediamo un po' Space Boy Giochiamo Qualche anno fa Era molto popolare Ma tuttora Continua ad avere Una piccola nicchiera Appassionati Non è così facile Come sembra In molti ci hanno provato E hanno fallito Vuoi battere il mio record? Ti darò qualcosa di fiero Se riesci a batterlo Dimmi che è uno shooter Ma... Ah ok Ho capito Cosa? Ah mi ha ucciso? Ah no Mi hanno ucciso loro Perché forse... Ah Mi hanno preso loro Probabilmente Ah ok Ok Dicono che per vincere A Space Invaders Devi aprire una Una breccia Attraverso le tue difese Non ne sono molto convinto Però Ah Perso Niente Però ho basso il record? No A quanto pare no Fa niente Fa niente Ma questo nemico superforte Ora? Provo Non so Magari mi fa combattere Con la squadra Di Omori? No Da solo Ma che roba è? Attacco Jackson Eh Certo Jackson Ah però Un altro corpo E ho vinto Ok Che faccia? Ehi Sanni Terra chiama Sanni Cavolo Mi è caduto un cd da dietro il poster Inquietante Chi l'avrà messo qui? Pensi che possiamo prenderlo? Cd festivo Questo sicuramente era Eh Sono appena scomparsi due persone Non è che erano Basil e Aubrey Ma sono i bimbi che ho trovato prima Ti prego non andare per favore Scusa amico Non sono affari miei Sbrigatela da solo Oh C'è un po' di trambusto laggiù Andiamo a controllare Ma c'è altra gente o sbaglio? Senti pazzoide Ti ho già detto che non sono affari miei Veditela con lei Non mi stressare Ti prego Dille di tornarmelo Se glielo chiedessi Io non mi ascolterebbe Mai Aspetta Ma quello è È Basil Lascialo stare Prepotente Eh Chi è? Oh È Kel Senti Perché non ti fai gli affari tuoi? Kim Smettile di bullizzare Basil Ma è così difficile Farsi gli affari propri Comunque Non gli ho fatto niente È lui che sta dando fastidio E poi Chi ti credi di essere? Abbassa la cresta Cosa succede laggiù? Oh ma No Non dirmi che Non dirmi che è Obri È lei? È sicuramente lei Anche se non sembra Eh oh Eccola lì Ehi Obri Vuoi lo spiegato di Kel Pensare di poterci dare ordini Facciamogliela vedere Kel Cosa vuoi Smettila di tormentare Basil Come è potuto Eravamo tutti amici Non ricordi? Sanni Diglielo anche tu C'è Sanni? Ciao Wow Ma sei davvero tu È passato un po' di tempo Ma non si è cambiato per niente Da quanto è che non uscivi di casa? Tre anni? Forse quattro? Deve essere stato bello vivere chiusi nella propria bolla Smettila Obri Non puoi sapere cosa ha passato Non importa Obri Per favore Ascoltami Eh no Ma insomma Vattene Kel Non è un problema tuo Stanne fuori Che diavolo è che non va? Forza Sanni Dobbiamo fare qualcosa Volete davvero fare a botte? Certo Perché no? Fatevi sotto Non vedo l'ora di spezzarvi le ossa Affronta tutti e due senza paura Ma che cosa è successo? Attacchiamo Obri? Ma una mazza chiodata? Ma quello è un coltello? Oh cavoli Oh ma che cavolo succede? Oh diamine Obri stai bene? Ti sei fatta male? Sto bene No non è vero Stai sanguinando Vieni dobbiamo andarci Da qui Ve la farò pagare Cioè quindi noi abbiamo Accoltellato Obri Cavolo Stava davvero per finire male Per fortuna Avevi un coltello Con te Mamma mia Cosa? Dammelo subito Non dovresti portarti in giro Cosa del genere È pericoloso Obri davvero cambiazzata L'ultima volta che l'hai vista Lei e i suoi nuovi amici Portano soltanto guai Povero Basil Andiamo a controllare Se sta bene Basil Ok parlo con Basil Volevo salvare E farlo nel prossimo episodio Ma accidenti Ehi Basil come stai? Ah sto bene Grazie Kel Non so se l'hai notato Ma c'è qui anche Sanni Di ciao Oh ehi Sanni Da quanto tempo eh Yuhuu Di nuovo insieme Allora oggi ti va di fare Un giretto insieme? Oh mi dispiace Mi piacerebbe Ma forse dovrei Tornare a casa Davvero? Sei sicuro? Mia Mia nonna In questo periodo Non sta molto bene Oh mi dispiace Beh Almeno fatti raccompagnare A casa È da così tanto Che non ci beccavamo Tutti insieme Oh va bene Grazie mille Ehm Non volete accompagnare Sì però Fammi salvare Va bene Va bene Andiamo a casa tua Zitto Aioi Oh mio dio Un bruco nero Ma Ma quanta roba C'hai in giro Dove abiti? Ah In basso a destra Ah Va bene allora Un gattino Una girandola Ehm Qui allora Giusto? E beh Sì Ehm Ecco il caso di Basil Quella con il tetto verde Ehm Grazie per avermi accompagnato a casa Nessun problema Se ti dovesse servire aiuto Basta chiedere Ci vediamo dopo Basil Ok Aspettate Non andatevi prego Ehi Scusate Mi dispiace In realtà avrei un favore Da chiedervi Qualsiasi cosa Dicci pure Beh Vedete Mi è stato rubato qualcosa di molto importante Quando Ancora Eravamo amici Ricordate che ero solito scattare foto Ognuno di voi? Certo E so anche che quelle foto Erano importantissime per te Ah Giusto Beh Obri Mi ha rubato l'album fotografico È stata Obri Già Non Non vuole ridarmelo Che delinquente Non preoccuparti Io e Sanne risolveremo la situazione Ah Va bene Grazie A proposito Vorrei correggerti Riguardo a quello che hai detto prima Siamo ancora amici Non abbiamo mai smesso di esserlo Capito? Capito Sì ma Cosa è successo? Beh Ci vediamo dopo Quindi Basil pensava che non fossimo più amici Obri è diventato una teppista Hero È partito Per gli studi Abbiamo un album fotografico da trovare Controlliamo a parco di Far Away E Dov'è finita Mari? Perché Io penso che Allora Non si è parlato di Mari Neanche per sbaglio Però Qualcosa deve essere successo Voglio dire Si è presentata a noi come Un essere Che roba è lì sotto Come un essere Spettrale Mostruoso L'ultima volta che ci ha bussato alla porta A meno che non stessimo sognando di essere ancora Omori Wow È tutto molto Particolare Mi sta intrigando parecchio Molto più di quanto mi aspettassi Ad ogni modo Il video termina qui Nel prossimo Vediamo di recuperare questo album E magari scoprire se Mari È effettivamente Frutto della nostra immaginazione Magari siamo figli unici Non lo so Ad ogni modo Io vi ringrazio per aver seguito il video In descrizione Tutti quanti i link utili E ci vediamo ovviamente alla prossima Bye bye Ciao 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 Ciao